appassi stiaffate io sono riuscito a formare chiudo questa cosa ma non vedi come sei fatigato ti fai proprio schifo sai che gli altri schifo però onestamente proprio tu stai fatto che sono giusto tu sei più giusto di me esatto perché io sono soffrendo e so che cosa si fa incontro stamattina per esempio io ho giocato la banca perché non è più possibile sono chiuso la banca che la porta in giro sono chiuso la porta a un certo punto si è chiusa la porta non sarà più e non si chiude a un certo punto una voce registrata attenzione prego entrare ad uno alla volta